buonasera buonasera a tutti che ci seguite su liberi tv eh sono Gianni Colacione in collegamento con eh Pierpaolo Segneri e Alessandra Sarvellitti che vi presenterò fa un attimo vi dico subito che questa è una trasmissione di una puntata di creare il futuro con un piccolo contenitore che con Pierpaolo Segneri diciamo eh abbiamo già inaugurato Pierpaolo Segneri lo conoscete già e eh con un focus su Frosinone Frosinone al centro in prospettiva delle delle elezioni amministrative del duemila e ventidue. Abbiamo come ospite oggi Alessandra Sarvellitti la ringraziamo di essere con noi eh avvocato e consigliere comunale eh di Frosinone ma anche alla provincia come delegata eh alla pubblica istruzione è un argomento di cui ovviamente penso che parleremo oggi e avvocato civilista ovviamente consigliera per il per il PD. Eh e parliamo appunto con anche con Pierpaolo Segneri che conosce tutti professore e scrittore e eh qui anche investe di presidente dell'associazione eh Frosinone al centro. Il focus diciamo è quello come ho detto del il sabvicendamento che si presume ci sarà o comunque sia di questo confronto elettorale del duemila e ventidue. Attualmente c'è un un sindaco di centrodestra eh ottagliani a Frosinone che ha il suo secondo mandato. Quindi insomma è una si cominciano a eh a smuovere le cose. E noi vorremmo parlare ecco un pochino per capire anche un po' il metodo come si stanno muovendo le varie forze politiche. Per questo questa puntata che siamo onorati appunto di avere Alessandra la inauguriamo e speriamo che anche altri esponenti di altre forze liberamente vorranno eh aderire a questa in questo invito al faccia a faccia al confronto allo scambio di idee soprattutto sul metodo cioè come si arriverà poi alla espressione di candidati. Darò la parola cinque minuti ciascuno a entrambi eh cercherò di non dire più di tanto già ho parlato troppo e lancio insomma il eh la discussione il dibattito eh con una riflessione dando appunto la possibilità di fare una riflessione un po' eh anche per presentare a chi ci segue la situazione di Frosinone oggi come si vede Frosinone oggi come i due personaggi che sono qui ospiti la vedono dando la parola ovviamente prima ad Alessandra. Eh buonasera ti ringrazio Gianni e ti ringrazio Pierpaolo per questo invito eh Pierpaolo lo ci conosciamo da da ragazzi diciamo da quando frequentavamo la provincia la provincia del nostro luogo di ritrovo era all'epoca una Frosinone viva piena di speranze piena di culturalmente anche molto molto vivace e e ci siamo ritrovati dopo un po' di anni Pierpaolo non li diciamo quanti di anni però dopo un po' di anni ci ritroviamo qui in questo dibattito che io accolgo con molto favore perché Pierpaolo l'ha sempre ritenuto una persona molto gentile una persona molto delicata per cui dialogare con lui anche se su posizioni eventualmente politiche differenti non lo so lo scoprirò oggi se abbiamo posizioni politiche differenti è comunque un piacere perché dialogare con persone intelligenti e persone per bene è sempre un piacere sono contenta poi che si comincia con una rappresentanza femminile Gianni perché diciamo che diciamo che ho omesso di dire che tu sei sensibile alla cosa perché stai nella commissione o sei stata nella commissione pari opportunità dell'ordine dell'ordine degli avvocati devo dire che la situazione da un punto di vista di presenza nella politica femminile nell'ambito amministrativo mi limito alla parte amministrativa è fortemente aumentata passiamo dall'ottantanove che avevamo un sei virgola cinque per cento di presenza di donne nelle amministrazioni comunali provinciali e regionali siamo arrivati a un trentatré per cento questo però non significa nulla perché voi purtroppo devo partire dal dal presupposto che posti del poteri ce l'avete quasi tutti voi maschietti quindi residenti regioni nelle varie nelle varie regioni lo dico a malincuore sono stati schierati prevalentemente dal centrodestra e non dal centrosinistra la i sindaci il quattordici per cento dei sindaci in tutte in tutti i comuni d'italia sono rappresentati dalle donne il restante è rappresentato da uomini quindi è una presenza diciamo c'è ma è marginale è presente negli assessorati perché c'è un obbligo di rispettare una presenza femminile negli assessorati ma se ci fosse la possibilità a mio modo di sorpassare questo limite non ci sarebbe neanche negli assessorati partiamo da questo presupposto per noi donne la politica è difficile è difficile entrarci è difficile restarci ed è difficile imporsi all'interno della politica detto questo detto questo io sono consigliere comunale di frosinone con il pd con la lista del pd devo dire che la lista del pd a differenza di tutte le altre liste dell'opposizione nonostante i nostri diciamo disguidi delle volte interni perché ovviamente c'è una libertà di opinioni grazie a dio all'interno della del partito è rimasta l'unica lista che effettivamente è rimasta tale quindi eravamo siamo partiti in quattro e ad oggi a distanza di di tre anni siamo di tre anni e mezzo rimaniamo ancora in quattro abbiamo quattro consiglieri il candidato sindaco cristofari il capogruppo pizzutelli poi c'è il dottor venturi consigliere venturi e poi ci sono io in rappresentanza del pd quindi è una lista che diciamo nonostante le chiacchiere esterne di di malumori rimane sempre fissa lì all'interno del consiglio comunale eh frosinone frosinone io avrei un mondo di cose da dire sull'amministrazione di questa città su quello che che penso debba essere fatto in città e devo dire che questi anni sono entrata in politica attiva nel duemila e diciassette mi sono candidata per la prima volta ho avuto la fortuna eh di riuscire subito come consigliere comunale per cui mi trovo a sedere in consiglio comunale e sono entrata nella macchina amministrativa che non è facile per cui un domani chiunque si proporrà come sindaco eh di frosinone dovrà capire che la parte amministrativa è la parte proprio più complice secondo me essere sindaco è la carica politica più difficile che esista eh al di là dei parlamentari dei consiglieri regionali è la carica più difficile innanzitutto perché devi essere a conoscenza in maniera perfetta di quella che è la la macchina amministrativa del tuo comune e in secondo luogo perché la tua posizione è una posizione amministrativa politica ma di vicinanza costante a mio parere ai cittadini. Diciamo che sono dieci anni che Frosinone è governata dal centrodestra un centrodestra che fino ad oggi però è stato un centrodestra diciamo democristiano molto molto di centro ecco abbiamo il nostro eh Pierpaolo lo sa il nostro sindaco che è iscritto alla Lega però detto tra di noi di Lega ben poco perché Nicola ha un un segno un timbro democristiano che ovviamente gli rimarrà secondo me a vita ombre ci sono ombre e ci sono luci di questa amministrazione io ovviamente stando in opposizione eh e ho cercato di fare inizialmente ho fatto un'opposizione che fosse più un'opposizione di eh di attacco quasi che non mi andasse bene niente poi quando sono entrata nell'amministrazione provinciale e ho capito quanto è difficile amministrare un ente comunale un ente sovracomunale quale può essere la provincia sono stata un po' più clemente nei confronti di questa amministrazione devo dire alessandra aspetta quello che hai fatto ce lo racconti al secondo giro così passiamo la palla a Pierpaolo e un pochino uno scambio ovviamente ringrazio Alessandra per le bellissime parole che ha usato nei miei confronti ovviamente eh essendoci una conoscenza di diversi anni senza svelare quanti anni eh ovviamente c'è una sorta di solidarietà ma anche credere che sono c'ho trent'anni Pierpa fai credere trent'anni esatto quindi noi trentenni di oggi abbiamo abbiamo questa eh unione di vissuto no su per quanto riguarda Frosinone e abbiamo vissuto quel periodo e mi volevo riagganciare proprio a quanto diceva Alessandra che noi quando avevamo quindici sedici anni sette anni ginevamo per Viale Marconi a Frosinone eh la famosa provincia e mh c'era un clima diverso da quello di oggi mh oggi camminando per Frosinone ma anche eh quest'estate sono rimasto impressionato perché a me piace molto osservare le persone ho visto un gruppo di ragazzi di studenti giovani massimo avranno avuto diciotto anni i quali eh a guardarli negli occhi avevano qualcosa che mh di molto più eh sofferente rispetto a a quello che eravamo noi cioè anche eh con Alessandra i nostri coetani noi portavamo dentro una forma di solitudine tutto sommato no? Però adesso questa solitudine che si riscontra anche negli adulti io l'ho vista a Frosinone nei ragazzi negli studenti nei giovani sono rimasto impressionato e ho capito che c'è una crisi politica oggi a Frosinone che è dovuta a fatto che non c'è più dibattito non c'è più discussione non c'è più dialogo politico e io lo voglio dire con il sorriso vorrei trasmettere il sorriso abbiamo iniziato questo dialogo con Alessandra con delle battute e abbiamo sorriso perché l'area che si respira è un'area angosciante le persone io lo sento lo vivo lo vedo portano dentro eh a volte rabbia altre volte sconforto qualcuno eh avvera propria paura come se si fosse moltiplicata l'ansia eh uno stato d'animo che non piace che è diciamo un vuoto culturale io l'ho chiamato si è creato un vuoto culturale e qual è la causa? La causa è politica cioè non essendoci più dibattito perché quando uno cerca di dire una cosa a Frosinone ormai diciamo da vent'anni viene soffocata la voce la possibilità di esprimersi da parte di cittadino la possibilità di ehm esporre quello che lui sente ed esprimere il proprio talento e se questo viene soffocato anche soprattutto in politica ecco che il vuoto viene riempito dal nulla e quando il nulla riempi il vuoto della politica è il momento che può accadere il peggio e il peggio a livello umano cioè il bisogno di tornare a sorridere anche con gli occhi è il vero scopo della politica oggi perché politica viene dal greco no? Polis è dalla città e se tu puoi avere uno sviluppo fantastico stratosferico grande sviluppo ma se non c'è il progresso insieme allo sviluppo se queste due e questi due elementi non vanno insieme e cioè a livello umano non c'è una crescita una crescita di conoscenza una crescita di possibilità di essere ciò che si è e diventare ciò che si è se penso ai giovani la possibilità di dialogare con gli altri incontrarsi la solidarietà la possibilità di interagire l'essere umano esiste nella relazione no? È vero che siamo individui ma l'individuo rafforza la propria individualità proprio nella relazione quindi i rapporti umani fanno dell'uomo un essere animale politico invece a Frosinone cioè un essere animale antipolitico non politico apolitico e questo mi ha sconvolto perché si legge negli occhi dei ragazzi anche noi avevamo una solitudine ma non era così grave non era così angosciante non era così senza come per dire noi forse eravamo senza speranza ma anche senza rassegnazione lo dimostra il fatto che Alessandra non si rassegna forse non ha speranza che qualcosa possa cambiare ma non si rassegna affatto che questo possa essere lo stato attuale di Frosinone e lo stesso anch'io e dico ma è possibile e allora eh abbiamo aperto l'associazione Frosinone al centro a ottobre mentre tutti chiudono perché ormai con il covid si sta chiudendo giustamente tutto per la sicurezza eccetera e si chiude anche il dibattito politico noi vogliamo aprire apriamo l'associazione culturale Frosinone al centro apriamo i cuori apriamo la mente apriamo il dialogo apriamo il dibattito apriamo la possibilità di vivere partecipare nella politica nella città in quanto cittadini perché se dico una cosa faccio un esempio io ho lanciato eh maggio scorso sul web sui social l'idea delle primarie per il centro sinistra e a giugno l'ho riportato ho fatto dei comunicati stampa e a giugno ne sono usciti diversi articoli sulla stampa locale segneri propone le primarie del centro sinistra per scegliere il candidato a sindaco eccetera il silenzio io mi aspettavo che qualcuno magari dal PD che ha nel nel nello statuto no la funzione delle primarie nella selezione della classe dirigente anche soprattutto per il sindaco qualcuno dicesse qualcosa questo silenzio mi ha lasciato sbicottito perché questa stessa cosa io l'ho fatto già nel 1998 all'imminenza delle elezioni amministrative all'epoca mi rispose francesco brichindi che era consigliere non esisteva ancora il PD ma oggi è espressione del PD francesco brichindi rispose sui giornali e disse no segneri sbaglia non bisogna fare le primarie sceglieremo noi il migliore e scelsero domenico marzi che infatti vinse quindi scelsero davvero vai vai pierpaolo chiudi che voglio dire questi sono fatti che dimostrano che le cose sono peggiorate dal 98 oggi all'epoca almeno un po' di dibattito sui giornali c'è stato stavolta il silenzio e vorrei spezzare una lancia e voglio concludere nei confronti di michele marini perché ho letto sulla stampa locale con le classifiche vanno le persone che vanno su e quelle che vanno giù michele marini è stato già sindaco di frosinone dal 2007 al 2012 tra l'altro io l'ho anche sostenuto anche quando ha perso nel 2012 e che cosa è successo l'hanno detto che va giù michele marini perché lui ha proposto le primarie e adesso si è ritirato dalla corsa allora premessa poi cioè michele marini non ha mai promosso le primarie la proposte per paolo segneri fatto che giornali scarico responsabilità su su michele marini mi sfugge forse mi vogliono tutelare per non mandare segneri giù però mi ha fatto ridere il fatto che adesso si eh si allontana da questa prospettiva che lui aveva proposto non lo so se si allontana io l'ho incontrato michele marini magari ne parliamo perché lui ne ha parlato il giorno quindi per dire tutti sono stati zitti dentro il pd finché a dicembre l'altro giorno francesco de angelis che è il leader del pd nel provincia di frosinone ha detto sì alle primarie fino a quel momento non c'è stato forse ci sarà stato interno al pd il dibattito ma non è stato pubblico se non è pubblico non è conosciuto non è politico e quindi i cittadini sono buttati fuori io voglio far entrare i cittadini nella città sentiamo Alessandra ma forse quando le hai lanciate tu le primarie era un po' troppo presso per paolo perché qua i tempi della politica sono talmente veloci che tu se me le hai lanciate l'anno scorso non ti hanno proprio preso in considerazione no 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 l'anno scorso a giugno giugno luglio agosto tutti i mesi a tutti i mesi le hai lanciate era estate stavamo tutti al mare senti no per parte gli scherzi ora le primarie diciamo è vero che fanno parte dello statuto del partito democratico è vero che francesco de angelis ha ehm dichiarato apertamente che verranno fatte le primarie quello che che voglio sapere se tu ti candidi a queste primarie del centro-sinistra perché queste saranno delle primarie aperte non è che saranno le primarie del pd saranno le primarie del centro-sinistra allora visto che tu l'hai lanciato tu ci tanti candiderai spero a queste primarie permettimi gianni gli sto facendo una domanda non sono l'intervistatrice però la curiosità no anzi io l'ho lanciata io ma aspetta io l'ho lanciata per aprire il dibattito se si fosse aperto il dibattito fosse stata discussione fosse stato un dibattito conosciuto perché non c'è conoscenza io sarei quando ho visto questo panorama che giugno nessuno mi ha risposto luglio nessuno mi ha risposto uscito sui giornali agosto settembre ottobre allora poi mi sono visto anche con Michele Marini e gli ho detto ma tu che cosa ne pensi Michele Marini diceva una bellissima idea ma qua non dice niente nessuno cioè separatamente in privato mi hanno tutti detto delle cose ma pubblicamente se non parlano non vale no quindi oggi posso dire che alle alle primarie centro-sinistra visto che è la situazione io non partecipo perché non posso io faccio farò una lista civica se avrò la possibilità e correrò da solo al primo turno e poi a ballottaggio si farà l'apparentamento ma non posso partecipare in un in un contesto dove non c'è dibattito politico perciò voglio creare anche queste occasioni ma il dibattito politico può cominciare da oggi non è che doveva cominciare necessariamente a giugno no può cominciare anche da oggi il dibattito politico sarebbe bello se invece tu partecipassi alle primarie del centro-sinistra sarebbe bello arricchirebbe questa cosa vabbè poi ci penserai vediamo io io sarei per per andare al primo turno da solo mi piacerebbe quello che però ci tengo a rappresentare eh che il PD è una è una realtà fatta da tante persone diverse che la pensano anche su alcuni aspetti su alcuni temi in maniera differente è vero che il leader diciamo a numeri del del PD è Francesco De Angelis questa è una cosa indiscussa però diciamo che esiste un'anima che è un'anima minoritaria del PD cui appartengo anch'io che è l'anima un pochino più più moderata del PD quella ex chemocristiani o li vogliamo chiamare così eh l'ex Margherita ecco questa è un'anima un po' più moderata che che anche su questo tema che sarà il tema delle delle candidature a sindaco di Frosinone vorrà porre ovviamente la propria la propria opinione vorrà dire la propria la propria opinione quello che però mi interessa e qui stiamo rifacendo l'errore che secondo me è stato fatto cinque anni fa quando io chiedevo quale fosse il programma quando io chiedevo quali fossero gli obiettivi del sindaco quindi io non mi vorrei fossilizzare solo su chi sarà il candidato sindaco ma su che cosa il candidato sindaco pensa di fare per una città che ha bisogno di tanto 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 allora più che sulla persona che secondo me l'identikit proprio se dovessimo descrivere un identikit di quello che dovrà essere il prossimo sindaco di Frosinone eh tenuto conto che anche in questa circostanza Gianni le donne sono state bruciate e tenute fuori almeno per ora diciamo che deve essere comunque una persona eh che sia ricca di idee ricca di idee ricca di conoscenze eh ricca anche di relazioni con gli enti sovraordinati perché quello che è mancato a mio parere una delle critiche che faccio all'amministrazione Ottaviani è che si è isolata troppo per differenza anche politiche però si è isolata troppo perché poi chi parla tra di loro sono i dirigenti delle delle varie dei vari enti sovraordinati è proprio l'isolamento dalla regione l'isolamento dalla dalla parte governativa questo secondo me non è non è andato a favore della nostra città questo diciamo è uno degli aspetti che posso criticare all'amministrazione Ottaviani mentre devo dire lo dico senza eh senza pericolo di essere smentita che che questa amministrazione è un'amministrazione che molti aspetti per molti aspetti tralasciando poi le scelte politiche su dove investire si è investito poco sul sociale si è investito pochissimo sulle politiche giovanili però devo dire e lo faccio con punizione di causa perché l'ho controllato io direttamente qui in questa amministrazione non ci sono stati consulenti non ci sono state persone che hanno approfittato della cosa pubblica c'è stato un controllo minuzioso a questo al sindaco e all'amministrazione lo devo riconoscere non c'è stato uno sperpero di soldi poi quei pochi soldi che avevamo come investirli quella è una scelta politica ovviamente che poi ricade come scelta amministrativa e su quello si può vedere un dibattito perché io avrei fatto scelte diverse però io non amministro per cui non posso addentrarmi in quelle che sono scelte fatte dall'attuale amministrazione prosinone ha una eh diciamo ha una serie di di problematiche di carattere culturale di carattere urbanistico eh di carattere ambientale che non sono nate oggi non sono nate ieri ma ci portiamo avanti da venti anni e la sensibilità poi ambientale improvvisamente grazie a dio è scoppiata è scoppiata questa sensibilità ambientale ci siamo ritrovati ad essere molto spesso al po sul podio delle città più inquinate d'italia ecco su dieci anni di amministrazione ottaviani devo dire che su questo abbiamo lavorato poco è stato lavoro veramente si è lavorato poco tenuto conto delle problematiche legate alla eh alla posizione della di flosinone al centro di questa valle del zacco tenuto conto della mancanza di cioè si è lavorato poco eh sul sull'inquinamento atmosferico si è lavorato poco ad esempio faccio un esempio per me la discarica di via le lame è l'esempio eclatante di quanto si sia lavorato in maniera ambientale cioè dieci anni di fermo dieci e possiamo anche prendere forse qualche amministrazione precedente in cui non si è fatto niente per una bomba ecologica che si trova in piena zona industriale accanto alle nostre aziende alle aziende che producono reddito all'interno della del della comune di flosinone per me è una cosa inspiegabile è una cosa ora sembrerebbe parebbe che eh si comincia a muovere qualcosa a livello regionale eh io finché non vedo non credo sono di questo parere per cui voglio vedere eh qual è il programma qual è la ehm qual è l'obiettivo se rimuovere i rifiuti non rimuoverli eh come gestire questa discarica dopo io ovviamente ho il mio parere che sarà svincolato da qualsiasi appartenenza politica perché quando si tratta di salute non c'è appartenenza politica sì no e peraltro si può arricchire diciamo il dibattito con la una dei dati che eh sul lab ventiquattro del sole ventiquattro ore si possono tranquillamente consultare sulla qualità della vita nelle centosette province e diciamo ambiti territoriali eh equivalenti insomma ehm in Italia complessivamente ci sono vari indicatori complessivamente flosinone è stato ottantacinquesimo posto e parlando appunto di quello di cui tu parlavi ambiente e servizi è l'ottantottesimo c'è una questione ambientale abbastanza eh abbastanza urgente la vale del sacco eh poi delle cose che un pochino si intrecciano anche con una crisi eh da un punto di vista economico e industriale eh Pierpaolo continui tu da questo eh o puoi parlare magari anche rispondere a qualcosa che anzitutto mi riconosco questo ultimo intervento di Alessandra nell'analisi che fa quindi non mi ripeto anzi mi mi è piaciuto questo il suo far riferimento anche in maniera critica ma seria perché questa è la politica no? Riuscire anche a d'ammettere quando qualcosa di positivo succede e accade e anche quello va illuminato va va reso noto e va riconosciuto eh per me ehm insomma eh il discorso ambientale è fondamentale personalmente proprio eh sul messaggero il quotidiano in messaggero sulla cronaca di Frosinone per esempio Luciano D'Arpino ha scritto un un editoriale recentemente proprio su questo e eh ci aspettiamo nel termine di questa consigliatura eh governata e guidata dal centrodestra che ci sia qualcosa di più concreto da questo punto di vista eh in direzione di una migliore qualità della vita innanzitutto rispetto all'ambiente alla mh al al dissesto ideologico all'inquinamento eccetera ma per me politica è cultura quindi la causa di tutto questo che è la conseguenza di tutto quello che eh è stato elencato da Alessandra la causa è che politica è cultura e cultura è politica cioè è un fatto di mentalità e se la politica cioè coloro che si mettono a servizio dei cittadini e della città per svolgere un compito di responsabilità politica oltre che amministrativa non non danno forza a tutto l'elemento culturale che permette al cittadino di crescere di migliorare di capire di comprendere di rendersi migliore di essere migliore no? Diceva Albert Camus la libertà e la possibilità di essere migliori a volte a Frosinoni oggi ho la sensazione che non ci sia questa possibilità ecco perché sono col sorriso eh spinto da necessità mia urgenza mia personale di eh trasmettere un elemento d'amore verso verso le persone perché le persone le vedo isolate le vedo sole anche arrabbiate anche magari nella possibilità di essere liberi e nell'impossibilità di poterlo effettivamente essere perché non c'è la cultura che gli permette di conoscere di comprendere di partecipare di esserci di eh vedere una politica che non è sotterranea ma si fa alla luce del giorno con la possibilità quindi di essere conosciuta ovviamente il dibattito politico deve partire dall'uomo dall'essere umano è inutile che inquiniamo tutto tutta la giociaria e tutta la valle del sacco pensando di eh andare avanti così perché quello è un atto contro l'essere umano perché poi le malattie eh quello che mangiamo e che ci viene dalla terra che noi abbiamo inquinato dal fiume che noi abbiamo inquinato tutto questo eh ha bisogno di un cambio di mentalità noi a Frosinone dobbiamo voltare pagina perché la minis la minis la la funzione amministrativa svuotata della politica è una forma di autoritarismo di eh è una la burocrazia svuotata della politica diventa un elemento mh diciamo totalitario ed è così lo sviluppo deve andare col progresso l'amministrazione deve avere la guida politica perché sennò basterebbero i tecnici basterebbero i funzionari no perché se a che serve un politico se c'è un bravissimo tecnico funzionario eh che riesce dirigente comunale che riesce a guidare la cosa eh perché evidentemente l'amministrazione da solo non basta quindi se io dovessi fare una critica a questa eh consigliatura di di questi due mandati di Nicola Ottaviani farei proprio questo che Ottaviani che è un politico ha trascurato un elemento politico a vantaggio di un diciamo una visione amministrativista cioè poi diventa molto accentratrice e non riesce a dare eh luce alla città anche con tutte le luci di Natale accese la città è buia il centro storico è buio. Quali luci? No per dire qualora ci fossero le luci anche natalizie dei cittadini che mettono alle finestre eh le loro luci per dare un segno di vita e tutto appare buio ugualmente perché eh viene meno l'elemento originario etimologico di di quello che un sindaco deve fare l'amministrazione deve fare che non è solo l'elemento burocratico amministrativo con tante cose che sono state fatte ma anche consentire ai cittadini di vivere la città e quindi di sentirsi partecipi di un processo di un cambiamento ecco perché abbiamo lanciato l'idea Frosinone capitale europea della cultura forse è un'utopia no? È l'ultima cosa a cui uno penserebbe ma non fa niente quell'orizzonte quella meta quel quel quella spinta verso cui noi eh ci direggiamo è un orizzonte che ci permette di essere mh convinti che qualcosa possa andare nella direzione che noi aspidiamo e non per forza sempre nella direzione opposta qua la situazione è talmente grave a mio parere che se no Frosinone non svolta non gira pagina completamente Frosinone andrà a sbattere. Ok allora mh Pierpaolo perché se no poi già siamo fuori con i tempi e stiamo andando verso la conclusione volevo soltanto dire che insomma abbiamo nominato la giunta presente e ovviamente esplicito ulteriormente l'invito a chiunque eh di quella parte politica o anche di altre voglia continuare questi appuntamenti eh con noi per contestualizzare tanto per non far capire che siamo per far capire che siamo sulla terra e non su Marte diciamo che siamo in pieno lockdown festivo eh ovviamente per causa covid e volevo portare la discussione in questo ultimo giro eh rapido su un tema che vi accomuna insomma sì vi accomuna eh in diversa veste eh so che Alessandra è stata abbastanza attiva per quanto riguarda l'apertura delle scuole eh in tempo in ovviamente dopo l'estate e e ovviamente anche per l'apertura dopo la pausa natalizia. Ecco la situazione delle scuole in questo territorio che è un argomento importante si collega anche ovviamente all'emergenza covid ma anche alla situazione strutturale ovviamente tu te ne sei occupata come politica come amministratrice e Paolo se ne occupa di scuola essendo anche professore ma insomma è un argomento che amo molto. A te Alessandra. Sì grazie allora la scuola sono due anni che mi occupo di scuola io mi occupo degli studi superiori che sono di pertinenza della provincia sia per quanto riguarda gli immobili edilizia scolastica che non è però di mia competenza sia per quanto riguarda tutta la parte del dimensionamento scolastico. Devo dire che quest'anno e qui mi riallaccio il discorso di per Paolo che diceva la politica l'amministratore non deve essere lasciato da solo ma deve esserci la politica dietro. Allora devo dire che in questo hai perfettamente ragione perché il grande lavoro che è stato fatto nei due mesi di luglio ed agosto da parte della provincia di Frosinone che è riuscita a fare aprire tutti i propri istituti scolastici su novantuno comuni il quattordici settembre suonata la campanella e tutti gli istituti erano pronti con lavori di rifacimento fatti con banchi che sono arrivati e arrivavano poi sarebbero arrivati a giorno nasce proprio da una sintonia perfetta da una simbiosi perfetta tra la parte politica e la parte amministrativa perché a mio parere se la parte amministrativa non avesse avuto una pressione costante della parte politica probabilmente avrebbe sarebbe forse comportato lo stesso modo però forse l'avrebbe preso un po' più comoda invece la presenza il fatto che c'erano delle priorità e la priorità per la provincia in quei due mesi era la scuola quindi abbiamo tolto gente della viabilità perché venisse investita sulla scuola perché il quattordici settembre dovevano rientrare tutti a scuola cosa che invece nel comune di Frosinone non è avvenuto per gli istituti comprensivi gli istituti comprensivi non hanno aperto il quattordici perché i lavori di rifacimento di allargamento delle aule i lavori di edilizia cosiddetta scolastica leggera non sono stati fatti nei tempi perché non c'è stata una programmazione perché c'è stata la mancanza di questa simbiosi di questa correlazione tra la parte politica e la parte amministrativa sulla in ambito provinciale abbiamo fatto quindi un lavoro immenso 32 milioni di euro che grazie a dio il miuro ha messo a disposizione finalmente delle scuole per quanto riguarda la provincia di Frosinone e la possibilità e questo lo dico con grande orgoglio e ringrazio il presidente Pompeo di mettere a disposizione 9 milioni di euro nel 2021 per la costruzione di un nuovo edificio scolastico per le superiori nel comune capoluogo di provincia. Un istituto che occorre perché abbiamo degli affitti altissimi in alcuni stabili per cui avremo un risparmio notevole di affitti con quel risparmio di affitti daremo una scuola vera una scuola nuova una scuola ehm che rispetti i parametri di ecologia rispetti i parametri di efficientamento energetico che sia bella che sia decorosa che sia sia abitabile che sia un luogo veramente di cultura. Io su questo per Paolo sono d'accordo con te. Tanto parte dal difetto della cultura e questo mi dispiace tenuto conto che a Frosinone ci sono l'Accademia delle Belle Arti che è una delle eventi accademi di tutta la nostra penisola e c'è il conservatorio Licignorefici dal 1972 cioè noi abbiamo due istituti AFAM nella nostra nel comune il capoluogo di provincia. Noi dovremmo essere un fiore all'occhiello della vittura. Invece non stiamo riuscendo a sfruttare questa presenza di di istituzioni importantissime che portano peraltro eh anche uno slancio economico. Tutto il centro storico che era disabitato è stato abitato per due anni da ragazzi provenienti dalla Cina che sono venuti a frequentare la nostra Accademia delle Belle Arti che oggi è preseduta da un imprenditore con una visione pragmatica dell'Accademia e di una direttrice che devo dire è molto molto brava e sta dando dei risultati ottimi. La stessa cosa lo sai per il conservatorio quindi avere due realtà così importanti e vedere che ogni volta che queste realtà chiedono anche al comune un aiuto su qualche cosa sempre tutto gli viene dato proprio con il è vero che non abbiamo i soldi però se ci stanno delle realtà queste realtà vanno esaltate questo lo dico anche alla provincia di Frosinone quando si tratta di dare un contributo di carattere economico a questi istituti che ormai fanno parte della parte universitaria ma siccome stanno nel nostro territorio quindi rappresentano un fiore all'occhiello del nostro territorio a mio parere gli enti locali non possono prescindere da un aiuto anche se fosse solo un aiuto economico nei loro confronti per cui sulla scuola di Frosinone grande attenzione gli istituti comprensivi sono istituti che purtroppo sono da rivedere da un punto di vista di edilizia scolastica abbiamo le ultime scuole che furono fatte da Michele Marini quindi sotto la giunta Marini delle scuole nuove l'ubicazione ne possiamo parlare di alcune scuole dove sono state ubicate alcuni dubbi per carità tutto però nella massima liceità mi dispiace che c'è una scuola che doveva essere costruita nuova a Madonna della Neve dove c'è uno scheletro e dove sicuramente rimarrà uno scheletro perché abbiamo perso il finanziamento o meglio questa amministrazione ha perso il finanziamento per la conclusione della scuola perché ha sbagliato ha ruotato il progetto e quindi abbiamo totalmente perso il finanziamento però però la prossima amministrazione comunale Gianni che ci sarà dovrà essere un'amministrazione che sulla scuola sui bambini sui ragazzi dovrà avere un'attenzione particolare un'attenzione esagerata rispetto a quella che non c'è stata in questi anni guarda prendo la parola perché io ho già detto pubblicamente che ho intenzione di candidarmi a sindaco e queste ultime parole di Alessandra mi fanno festeggiare perché io vorrei essere un sindaco che abbia come priorità le persone i ragazzi gli studenti i bambini anche soprattutto i bambini che siccome non votano nessuno si preoccupa di loro ma anche degli anziani cioè ritornare alle persone per me i protagonisti della città sono i cittadini sono loro i protagonisti non gli amministratori e quindi quanto protagonisti devono esserci e devono essere valorizzati messi nelle condizioni di dare loro quello che hanno che per me il cittadino frusinato è la più grande risorsa che frusinone ha se dobbiamo partire da quello che frusinone già è io partirei dai frusinati come risorse di talento di qualità di attitudini di simpatia di simpatia e anche partire dalle strutture che ci sono già Alessandra ha detto l'accademia di belle arti ovviamente anch'io sto stimando molto e apprezzo molto il lavoro che fa la direttrice che fa il presidente Egno De Vellis il conservatorio cioè Frusinone ha già delle cose che come siccome ci sono non vengono valorizzate non vengono portate diciamo nelle condizioni di essere un traino per tutta la città e diventano delle isole felici invece bisogna unire le varie isole e fare in modo anche le varie parti della città si possano sentire elementi di un unico di un unico capoluogo addirittura io sarei per l'area intercomunale della città metropolitana però come ho scritto oggi no il talento emerge se siamo circondati da persone che credono in noi quindi alzitutto io ringrazio Alessandra perché lei accettando questo questa mia proposta e venendo qui mi ha fatto sentire che lei crede nella città e un po' crede anche a me e io credo in lei perché altrimenti non avrebbe accettato e questa è una cosa bellissima e magari il talento dei Frusinati potrà venire fuori se ci sarà una politica capace di credere nei Frusinati credere in loro perché poi io sono convinto come ha fatto Alessandra oggi che chi parla con il cuore viene capito da tutti e chi non parla col cuore che ha bisogno di altri elementi per farsi capire e quindi partire da dalle persone da quello che già c'è è sicuramente un un ottimo punto di partenza e soprattutto vorrei essere quel sindaco lì che ha descritto Alessandra a termine del suo ultimo intervento perché io credo che chi smette di sognare fugge dalla realtà perché smette di aver fiducia nella vita e noi dobbiamo ritrovare a Frusinone la fiducia nella città e fiducia in noi stessi e negli altri fiducia reciproca perché se non c'è non c'è più fiducia non c'è più tessuto sociale che tiene è tutto slabbrato è tutto sfilacciato perché se non c'è fiducia nell'altro non c'è lealtà e se non c'è lealtà non c'è fiducia e non c'è più la politica perché non c'è più la polis non c'è più la gorà non c'è più la ragione per cui un amministratore è politico e quindi un sindaco svolge quel rapporto diretto di cui diceva Alessandra con i cittadini di incontro quotidiano con la città e i suoi cittadini e per quanto riguarda le scuole penso la stessa cosa che i protagonisti sono gli studenti e che noi dobbiamo dare attraverso la bellezza questa forza della bellezza anche della città io dico sempre Vettroni parlava la buona politica io dico la bella la politica la bellezza della politica e quindi la bellezza della città della sua memoria del suo futuro di quello che possiamo immaginare delle sue persone delle sue qualità anche enogastronomiche questi elementi di bellezza sono fondamentali per la crescita umana e quindi per gli studenti se gli studenti sono in edifici fatiscenti o in situazioni addirittura in cui la scuola non può nemmeno riaprire non possono vivere in un contesto di bellezza come pensiamo che possano crescere? ecco gli occhi della solitudine di cui all'inizio gli occhi che sono non soltanto più espressione di un vuoto culturale ma espressione di un vuoto esistenziale afrosinone c'è un vuoto esistenziale che mi spaventa ma lo voglio affrontare col sorriso ridare fiducia alle persone cioè praticamente la chiusura con questo andamento ellittico no fai chiudere ad Alessandra no io chiudo dicendo che rispetto a Pierpaolo sono meno sognatrice e più pragmatica però io dietro di me ho un quadro di Umberto Cufrini un artista di Frosinone nostro amico per cui poi nei fatti io realizzo quello che dico quindi viva i ciociari e viva Frosinone io a parte tutto mi auguro che le prossime la prossima tornata elettorale ci veda molto attenti sui programmi ecco sui programmi saranno questa volta fondamentali su questo non avrò minimamente dubbio mi impunterò quella che sarà ovviamente la mia scelta perché dovranno dovrà essere un programma a lunga visione che non si lindica ai cinque anni ma vada oltre quello che hai mandato elettorale di un sindaco e che e che sia in grado di rivoluzionare questa città nel decoro nella bellezza nella nell'aspetto ecologico nella sensibilità dei propri cittadini ehm se i cittadini vedono il bello i cittadini pretendono il bello e diventano pure più belli dentro secondo me per cui sarà questo la nostra il nostro obiettivo grazie Gianni grazie per Paolo grazie a voi grazie di aver partecipato ricordiamo Alessandra Sardellitti avvocata e consigliera comunale a Frosinone per Paolo Segneri professore eh e scrittore e presidente dell'associazione Frosinone al centro eh vi ringraziamo di aver partecipato a questa puntata eh di creato il futuro Frosinone al centro prospettiva elezioni amministrative speriamo che sia la prima abbiamo nominato un po' di persone quindi speriamo se ci sarà toglieranno appunto questo invito dei libri di vuo a poter eh io anche anche perché i libri di vuo non so se lo sapete ma comunque sia sotto il loco a liberi spazi di parola quindi chiunque ha qualcosa da dire troverà eh spazio tanto più in un momento preelettorale grazie ancora a tutti eh alla prossima grazie e forza Frosinone diciamo forza sempre sempre ciao grazie Alessandra grazie Gianni ciao ciao buonanotte ciao buonanotte